E bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui nel mio mondo di Minecraft Ita, bentornati nella nostra zona giapponese dove vi avevo promesso l'altra volta, oggi porteremo avanti la costruzione della pagoda perché abbiamo fatto l'esterno ed è bellissimo, ma oggi faremo qualche piccolo dettaglio in più all'interno. Ma per prima cosa, come vedete nell'inventario, ho dei sapling di Dark Oak e quindi mettiamoci a farmarli. Sì perché fortunatamente ho trovato i sapling che chissà quando abbiamo raccolto, ma non ho trovato assolutamente il legno e invece oggi il legno ci servirà perché questo legno ci dà la possibilità di avere delle trapdoor veramente bellissime quindi proviamo a piazzarne uno qua e vediamo se nasce l'albero. Andiamo di bon meal, dai, dai, no non cresce ragazzi, non cresce. Non so se è perché non c'è abbastanza spazio oppure se serve un bioma particolare. Adesso lo scopriamo. Ok, sono riuscito. Non so se il trick era mettere quattro alberelli proprio come si fa con l'alberone di spruce però l'importante è che abbiamo il legno che ci serve. Ok, abbiamo quasi uno stack di legna quindi direi che possiamo andare avanti con la nostra costruzione. Prima cosa che faremo sarà arredare quella che avevamo detto sarebbe stata la nostra sala delle pozioni. Ok, ecco qua dove avevamo abbandonato i nostri alambicchi per terra. Non sarà assolutamente così che lasceremo la nostra sala delle pozioni. Prima cosa che voglio fare è naturalmente recuperare tutti questi e piazzarli. Occhio che abbiamo rotto un blocco. Male male male, rimettiamo tutto a posto e nessuno ha visto nulla. Dicevo voglio piazzare questi alambicchi rialzati dal pavimento naturalmente e per farlo useremo appunto delle bellissime traptor di Dark Oak che hanno questo pattern veramente favoloso. E sopra, magari shiftando, possiamo piazzare il nostro alambicco. Adesso ho qua delle water bottle, le riempiamo tutte e le piazziamo dentro a degli item frame qua agli angoli. Naturalmente poi più avanti vorremmo mettere tutte pozioni di colori diversi in questi item frame. Per adesso non ho tempo di mettermi a fare le pozioni, quindi accontentiamoci dell'acqua. Adesso piazziamo un paio di calderoni qua vicino ai nostri alambicchi. Non lo so, magari ai due lati opposti della stanza. Naturalmente riempiamoli di acqua e poi qua una crafting table che serve sempre. E poi, lo so che non c'entra nulla con le pozioni, ma mi piace come blocco. Piazziamo qua un telaio perché devo dire che ci sta bene e non vogliamo lasciare un angolo vuoto. Oltretutto questo serve per fare i banner che ci stanno molto bene nella pagoda giapponese e in generale in tutte le costruzioni in stile giapponese, quindi potremmo anche cominciare ad usarlo. Adesso, per questo piano direi che abbiamo finito. Saliamo al piano superiore e direi che qua possiamo piazzare quella che diventerà la nostra camera da letto. Perché l'ultimo piano mi sembra un pochino troppo stretto, dopo non potremmo metterci veramente nulla. E quindi, quindi... Anzi, abbiamo due piani superiori in cui probabilmente non potremmo mettere molto, se non delle decorazioni, sì, direi che questo piano qua è perfetto appunto per la nostra camera da letto. Allora, dato che si sbuca qua con le scale, piazziamo il letto in quest'angolo qua, a fianco una bella trapdoor su cui metteremo, quando le avremo, una bellissima candela, perché ancora non abbiamo mai preso la cera dalle api, ragazzi. È una cosa che dovremmo assolutamente fare. Quindi per adesso piazziamoci una bella lanterna, poi più avanti vedremo di migliorare il tutto. Invece, quello che voglio fare da quest'altro lato è piazzare una trapdoor così e alzarla, e un'altra in questo angolo qua, però non riusciamo, quindi dobbiamo un attimo distruggere il muro anche a questo piano, così possiamo mettere la trapdoor in questo modo. Qua in questo angolo piazziamo una working bench, perché tanto una ad ogni piano ci va benissimo, e usiamola per fare dei cancelletti sempre di Dark Oak. Questi dovremmo piazzarli qua, così esattamente, e sopra ci dobbiamo mettere dei tappetini. Ok, esattamente così bisogna cliccare sul muro e non sul fence gate. E così abbiamo fatto una bellissima panchina, molto spartana, proprio come piace ai giapponesi. In quest'altro angolo qua invece direi di fare semplicemente una bella mensola, e sopra possiamo mettere dei bei vasetti. Adesso non ho molto da mettere dentro i vasetti, ma la cosa che ci sarebbe perfetta è una zalea. Devo tornare a casa e vedere se ce l'abbiamo. Per adesso l'unica cosa che ho è un sapling di Dark Oak, poi dopo anche qua miglioreremo. Ok, al piano sopra ho pensato che l'unica cosa che mi va veramente di mettere è in ognuno di questi angoli qua uno dei nuovi vasi che si possono trovare con l'archeologia, in questa nuova versione di Minecraft, ma ancora non li abbiamo né cercati né trovati. Quindi più avanti, quando li troveremo, li piazzeremo. Qua uno in ogni angolo, poi vedremo se metterci dentro qualche pianticella. Al piano di sopra è veramente troppo stretto, non mettiamo nulla. Quindi l'ultima cosa che ci rimane da fare è abbellire il piano terra, che è la parte più importante. Ok, sono tornato a casa e guardate cosa ho trovato qua nello Shulker Box, dove teniamo tutte le cose particolari. Esattamente una zalea, probabilmente ce la siamo portata a casa tempo fa quando siamo andati a recuperare gli ocelot, che adesso stanno nel nostro bellissimo acquario, nella casa, nella montagna, e quindi questa sarà perfetta per i nostri vasi, nella camera da letto, nella pagoda. Oltretutto ho pensato che usare il Dark Oak qua non ha assolutamente senso, e dato che questa è una costruzione in stile giapponese, useremo chiaramente un sapling di cherry. Invece di qua piazziamo la nostra bellissima azalea. Perfetto, adesso siamo giunti appunto a quello che è il punto principale della nostra pagoda, e cioè il piano terra. Io avevo piazzato qua una crafting table e lo smoker, che devo dire non sono bellissimi, quindi stavo pensando di spostarli nella parte posteriore della pagoda, perché qua piazzeremo due bellissimi armor stand, naturalmente. Sopra per adesso ci mettiamo naturalmente un'armatura di queste in cuoio, poi più avanti naturalmente ci metteremo qualcosa di più bello, magari anche con i bellissimi pattern che si possono aggiungere adesso, però in questo momento non ho assolutamente tempo per mettermi a fare tutto questo, anche perché la prossima è una cosa che volevo fare da veramente tantissimo tempo in una delle mie costruzioni giapponesi, e richiederà un po' di tempo, anche perché, devo dirvi la verità, questo l'ho visto in un tutorial. Sì perché è una costruzione che coinvolge pistoni, blocchi di redstone, e tutte queste cose qua con cui io non sono molto pratico, quindi andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Ok, tutte le cose che vedete adesso sono quelle che ci serviranno per la nostra bellissima katana nel mondo di Minecraft Ita. Sì perché qua, proprio di fronte alla porta da cui entriamo, metteremo la katana del samurai. Favolosa! Allora, prima cosa, scegliete dei blocchi di legna e piazzatene tre. Quelli che ci serviranno però saranno solo gli ultimi, quindi questi li scortecciamo. Ok, adesso qua sotto in questa direzione piazziamo altri due armor stand, poi qua sopra una hand rod da questa parte e una catena da quest'altra. Possiamo anche togliere naturalmente questi blocchi di terra. Qua sopra piazziamo due pistoni che guardano verso il basso, dopodiché mettiamo il blocco di redstone in mezzo e la nostra katana comincia a scendere. Adesso togliete la redstone, piazzate qua sotto altri due blocchi solidi e poi mettete di nuovo il blocco di redstone. E la katana è andata in posizione. Piazziamo una scaletta al contrario qua e chiudiamo la katana con l'ultima catena. fantastica ragazzi e guardate che costruzione spettacolare! Piazziamo qua dietro una lanterna di queste blu che dà un po' di luce soffusa a questa nostra bellissima katana e abbiamo finito. Naturalmente ragazzi che ve lo dico a fare, la costruzione di questa bellissima katana, proprio come quella che ha ispirato la nostra pagoda, sono di cortesigno. Lo trovate qua su youtube, fa delle costruzioni veramente spettacolari. E niente, qui con la vista della nostra nuova katana nella pagoda giapponese e di tutte le altre piccole cose che abbiamo aggiunto all'interno della nostra pagoda. Io vi saluto, vi ringrazio come al solito, ti avrei visto il video sino alla fine, vi invito a lasciare like, commentare e condividere, soprattutto iscrivervi al canale per non perdervi le prossime puntate della mia serie di Minecraft Ita. In descrizione come al solito c'è il mio link Instagram, ManMaxTV e niente, vi saluto, bella! Iscrivetevi! Non vi siete ancora iscritti? Iscrivetevi!